Monte dei Paschi di Siena Il governatore Gianni sono molto perplesso da un'ipotesi di fusione per incorporazione la comunicazione in aula del presidente della regione toscana sul futuro della banca senese Il Monte dei Paschi costituisce uno degli aspetti su cui mi sono maggiormente impegnato nei primi mesi di questa legislatura perché ritengo vitale per la Toscana la salvaguardia del profilo di identità giuridica di marchio, di know-how dei dipendenti e dei dirigenti di una banca che opera in Toscana dal 1472 Lo ha dichiarato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni nella sua comunicazione che ha aperto il dibattito in aula sulla vicenda MPS rispetto alla quale si è detto molto perplesso Il problema centrale resta quello del futuro assetto azionario visto che lo Stato intende cedere le sue quote sul mercato operazione che lascia intendere che Monte dei Paschi possa andare alla fusione per incorporazione con un altro istituto bancario Il governatore difende la centralità della sede senese Per questo motivo è stata approvata a larga maggioranza con la sola stensione del gruppo di Fratelli d'Italia una risoluzione che dà al presidente Gianni la forza di portare all'attenzione una posizione largamente condivisa dal Consiglio per la tutela del marchio, dei posti di lavoro e della governance in Toscana Noi oggi abbiamo un Consiglio regionale che prende posizione sul Monte dei Paschi Il ragionamento che io ho cercato di sviluppare è questo Se le alternative sono Monte dei Paschi da incorporare o Monte dei Paschi da mantenere nella sua autonomia e nel suo profilo almeno per un paio d'anni come la banca pubblica che possa sostenere una prospettiva Io sono chiaramente su questa seconda strada Ho fatto l'appello al Consiglio regionale perché il Monte dei Paschi possa mantenere quella identità che significa lavoratori da difendere significa management da tutelare perché abbiamo dei dirigenti di prim'ordine che significa prospettiva di mantenimento di una banca pubblica che sia di motore a tutto il rilancio e alla ripresa dopo l'emergenza economica che segue l'emergenza sanitaria Penso che se andiamo a guardare le cifre di quello che costa allo Stato avevo letto sui giornali che costava almeno 5-6 miliardi il capitalizzare il Monte dei Paschi perché potesse essere ben venduto L'amministratore delegato del Monte dei Paschi nella sua relazione qualche settimana fa invece ha fatto presente che con una capitalizzazione di 2-3 miliardi quindi minore rispetto all'incorporazione si può consentire alla banca nel 2023 di ritrovare un suo equilibrio economico di pareggio e poi di crescita e questa secondo me è la strada giusta da perseguire salvaguardando quindi la storia secolare del Monte dei Paschi ma soprattutto un'identità di banca che per la Toscana e in generale per l'Italia in questo momento di ripresa, di servizio e di supporto alle imprese ha molto da dire È stata una discussione importante, intensa consentitemi di ringraziare tutte le forze politiche c'è stato uno sforzo teso all'unità, ci siamo arrivati molto vicini l'obiettivo primario era dare al Presidente Eugenio Gianni una linea di indirizzo largamente condivisa da tutte le forze politiche questa risoluzione basa su tre assunti fondamentali il primo, fare in modo che venga tutelata l'occupazione venga valorizzato le professionalità di chi opera all'interno del Monte dei Paschi la seconda, che qualunque sia la strada che verrà scelta nei prossimi mesi la direzione della banca resti a Siena e la terza e non ultima è quella di valorizzare il marchio Monte dei Paschi la scelta e il fatto che sia stata votata a larga maggioranza, quasi diciamo all'unanimità e comunque con nessun voto contrario è il segno di tutte le forze politiche di voler dare un mandato pieno al Presidente Eugenio Gianni per fare in modo che venga valorizzata la banca venga valorizzato il territorio e si possa evitare di disperdere un valore importante per Siena e per la Toscana una banca statale che si trova di fronte al momento a questo bivio lo leggiamo, da un lato questa strada che il governo sembra aver percorso ma insomma non è detto è un piccolo passo e poi un impegno più grande certo il bivio chiediamo allo Stato tempo tempo perché mi sembra che tanti compiti sono stati affatti bisogna dirci la verità e la redditività operativa ancora è bassa perché il passato, quello che hanno potuto fare, lo stanno facendo oramai abbiamo questo, purtroppo abbiamo il problema del personale perché? Perché tutte le banche hanno tagliato Montedepanschi non l'ha fatto e quindi ancora questa redditività operativa che non funziona quindi diamogli tempo il piano c'è mi sembra che è un piano realistico certo non raccontano sogni se l'avete letto dicono quello che sono e quindi cerchiamo di tagliare io direi anche di fare qualche dismissione perché l'hanno fatto tutti tutti i sistemi bancari tutte le banche l'hanno fatto per salvare il salvagire perché una fusione vuol dire chiudere il Montedepanschi Montedepanschi è la principale azienda della Toscana è l'azienda più antica bancaria oggi ancora esistente nel nostro paese deve essere ambiziosa Siena è una città ambiziosa lo è la Toscana l'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Montedepanschi rimanga la terza banca d'Italia per fare questo deve essere il coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il Governo deve fare la propria parte il Governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane chiediamo di assumersela facendo in modo che i dipendenti, marchio, storia di questa banca possa rimanere a Siena possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda il centro Montepaschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia non si può perdere questa storia abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva, diciamo, il dossier Montepaschi rafforzando questa storia dandole ambizioni e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita di rafforzamento e di consolidamento si è svolto un importante dibattito in consiglio regionale per quanto riguarda appunto la banca Montepaschi di Siena abbiamo dato un contributo di idee anche ecco veramente una progettualità di un cammino da seguire sappiamo che a metà del 2022 vi è l'impegno di dismissione delle quote in banca Montepaschi da parte del Tesoro noi chiediamo in considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza che stiamo vivendo una moratoria di 30 mesi così come chiediamo una proroga di 12 mesi per quanto riguarda il Golden Power nei confronti dei soggetti europei condividiamo la richiesta ecco di sostegno della iniziativa della fondazione Montepaschi di risarcimento ecco nei confronti della banca e proprio per questo ecco abbiamo chiesto che sia nominato un advisor che possa seguire appunto la soluzione della controversia chiediamo un nuovo ruolo di Fidi Toscana perché vi sia ecco l'impegno diretto della regione toscana anche sotto questo punto di vista la Lega ha le sue idee ha le sue proposte le sta portando ecco in modo responsabile anche per quanto riguarda la difficile questione bancaria temiamo ecco possa esservi ulteriori conseguenze negative dopo anni difficili per le banche toscane e questo non ce lo possiamo permettere non ce lo possiamo permettere soprattutto dal punto di vista occupazionale ma dobbiamo conservare anche la territorialità territorialità delle nostre banche ecco perché chiediamo che la direzione generale rimanga a Siena e che si faccia di tutto davvero per tutelare l'illustre nome Montepaschi innanzitutto non possiamo più accettare non possiamo accettare la storiellina che ultimamente sta diventando una triste moda che si è tanto più responsabile e coraggiosi quanto tu stemperi le tue idee e le fai collimare con chi la pensa diametralmente opposta da te noi crediamo che essere coraggiosi ed essere padroni delle proprie idee significa difenderle anche quando sei l'unico che rimane a pensare in una certa maniera noi pensavamo quando Giuseppe Conte era Presidente del Consiglio che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi ora è cambiato il Presidente del Consiglio e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere noi cambiamo idea noi rimaniamo convinti che si debba procrastinare di 24 mesi la privatizzazione di MPS così come su altri temi noi non possiamo oggi arrivare in aula e votare un documento in cui ci diciamo che ci vogliamo tutti bene e che dobbiamo salvare MPS per il bene di Siena e ci mancherebbe altro tutto vero ma non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni non possiamo far finta che gli ultimi 30 anni o 40 anni non siano mai esistiti e che se oggi MPS si trova con l'acqua alla gola è così perché è colpa degli alieni è colpa di una parte politica la sinistra che ha governato a Siena e ha messo le mani in MPS per 30 anni per 40 anni e ha creato questo dissesto non possiamo oggi far finta di niente perché va di moda essere tutti uniti e rinunciare a dire questo noi non abbiamo votato il documento per questo motivo qua perché noi rivendichiamo che se oggi MPS è in difficoltà lo è per colpa di una precisa parte politica come sempre da forza responsabile abbiamo detto di sì al documento unitario dove il caposaldo era quello che ormai chiediamo da sempre che il nostro senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice cioè la salvaguardia dei posti di lavoro la salvaguardia delle aziende e lasciare monte dei paschi nelle mani del tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana la banca più vecchia al mondo per dare delle radici solide questo non esula però dalla responsabilità del partito democratico di quella gestione di quella banca dalla commissione fra la politica e la banca perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome era chi guidava le amministrazioni locali chi guidava la provincia chi guidava i comuni di quel territorio chi all'epoca era presidente del consiglio dei ministri che scelse i membri del cda della banca il presidente della banca che con una scellerata decisione decisero di acquisire Anton Veneto Banca 121 da lì partono tutti i problemi di Monte dei Paschi di Siena e quei problemi hanno un nome e un cognome molto chiaro che era la gestione politica di quella banca ci siamo sempre battuti contro la decisione politica le scelte della politica nei confronti della banca perché le banche dovrebbero essere liberi le banche sono aziende non fosse altro perché all'interno delle banche c'è un cda ci sono dipendenti ci sono lavoratori e ci sono i risparmiatori quei risparmiatori hanno pagato per quelle scelte scellerate questo non esula che noi da forza responsabile abbiamo detto di sì a questa prospettiva per la banca e dall'altro lato siamo anche estremamente preoccupanti da una politica industriale assente del governo quello precedente ci auguriamo che il nuovo porti una politica industriale completamente diversa e dalla politica industriale della regione toscana l'intervento che ho fatto in aula ci ho tenuto a ricostruire quello che è stato il lavoro di due anni della prima commissione che è stata fatta qui in regione toscana proprio su quello che è avvenuto su monte dei paschi che è stata presidenza del movimento 5 stile dal 2015 al 2016 ci ho tenuto a fare quella ricostruzione e a elencare quelle che sono state le conclusioni dell'atto finale perché ciò che è avvenuto quegli intrecci tra politica e finanza che tanto male hanno fatto a monte dei paschi e di conseguenza ai risparmiatori agli azionisti e al territorio non solo regionale ma anche nazionale non ci fossero più fossero in tutti i modi da quel momento in poi stornati però ho letto in questi giorni delle ricostruzioni riguardo un'eventualità una possibile accordo che ci può essere in Stato all'interno delle discussioni della coalizione di maggioranza riguardo la nomina che deve essere fatta dalla regione toscana di un membro della deputazione per sostenere quella che è la riforma dello statuto che in questo momento è promossa da Gianni questo significherebbe se fosse vero che non si è ancora capito niente di cosa significa fare un passo indietro in politica dopo che ci si è resi conto dei danni degli errori che sono stati commessi grazie a tutti